Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! Un indie che vede l'ennesimo indie di valore che vede la luce in 1.0. Il prezzo è assolutamente onesto perché per due settimane lo avrete in offerta a 18 euro anziché 24,50. È un gioco che, guardando se andate a vedere i trailer e i video sul tubo, vedrete che ha subito dei miglioramenti grafici pazzeschi. Sono degli sviluppatori che hanno ascoltato tantissimo gli utenti e il gioco era già in italiano in early access ed è un gioco che mi è piaciuto. Mi è piaciuto particolarmente, non l'ho finito, dico la verità, però all'inizio mi ricordava un Immortals Fenyx Rising misto a uno Horizon Zero Dawn, misto un po' anche volendo a uno Zelda. Siamo in quest'era primordiale dove sono successe delle cose, poi millenni dopo poi arrivano le persone che sono quelle protagoniste del gioco. Ed è un gioco ambientato, è un open world ambientato in diversi biomi perché comunque potremo esplorare, potremo trovare diversi biomi dal ghiaccio, le foreste rigogliose, i deserti e potremo, come dice anche la pagina Steam, forgiare il nostro stile di combattimento preferito in base alle abilità. Perché? Perché di cose da fare ce ne sono veramente tante. Adesso qui non abbiamo tutto perché comunque poi andranno a sbloccarsi le varie cose. Se vi va, guardate, vedete che ci sono poi anche le armi, gli equipaggiamenti, la pietra sacra, lo zaino, ci sono tanti mostri da scoprire, le funzioni, le funzioni ce ne sono veramente tante. Ma andatevi a vedere il video che io feci quando uscì nella Dx, è giusto anche solo per fare un confronto con quello che vedete ora perché comunque graficamente, tecnicamente dovrebbe essere cambiato. E dovrebbero aver cambiato anche l'inizio, per questo vi dicevo che hanno ascoltato molto i giocatori perché l'inizio era abbastanza lento e noioso e lo hanno migliorato cambiandolo. Mi pare che nel video che avevo fatto avevamo affrontato anche un mostro sul fiume, però graficamente è veramente molto carino. Non è ovviamente un fotorealismo assoluto, però qua c'era una sorta anche di crafting appunto che qua magari mi ricorda più un Horizon Zero Dawn, se vogliamo anche un, non lo so, perdonatemi il paragone, un Tomb Raider. Ma ora andiamo a vedere, così chiudiamo, quello che dice la pagina Steam. Ecco questa è la pagina Steam, come potete vedere ci sono un sacco di ambientazioni diverse, ci sono vari tipi di effetti magici che potremmo utilizzare e calcolate che qui arriva a 18.37. Tra l'altro come vedete qui potete usare e creare il vostro stile di combattimento, ve lo cucirete addosso in base a quello che equipaggerete. Sbloccheremo poteri divini, vedete che qua gli scontri con i boss sono molto carini, ricorda un pochino anche Kena. Ecco, ecco un altro paragone può essere quello, puzzle ambientali questi qui ricordano tantissimo Immortals Fenyx Rising e vedete che va a correre addirittura sull'acqua. C'è un background, c'è una storia, vedete qua le ambientazioni che cambiano una dopo l'altra. I requisiti li vedete qui, una ventina di giga, oggi c'è stato appunto il passaggio in 1.0, ci sono stati 13 giga di aggiornamento. E niente ragazzi, con questo è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo avevate già visto ai tempi quando lo portai in video, se lo conoscete oggi, se vi ispira, insomma se pensate di prenderlo. Calcolate che per dovere di cronaca, per correttezza, nessuno mi ha chiesto di fare questo video, l'ho fatto giusto per amor di cronaca perché ho visto la news, sono stato informato da Steam e l'ho voluto avviare e vedere insieme a voi. Io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!